buongiorno a tutti benvenuti in questo video andrò un po apparentemente fuori tema rispetto all'astrologia karmica ma come vedrete e come capirete tra poco si tratta di una in realtà di una deviazione solo apparente io mi sono avvicinata allo studio dell'astrologia karmica perché mi interessava comprendere il percorso evolutivo dell'anima essendo sempre stata non posso dire una sostenitrice ma ho sempre sentito mi ha sempre risuonato il tema della reincarnazione ho sempre sentito dentro di me che non può finire tutto qui non può essere tutto qui pensando all'esperienza singola della vita e nei miei studi nelle mie ricerche quando ho scoperto appunto uscendo un po dalla nicchia cattolica in cui sono cresciuta la teoria le teorie della reincarnazione la filosofia buddista e così via ho ho capito che era quella che quello che sentivo quello che mi rispondeva più profondamente e quindi appunto poi diventando astrologa il passo all'astrologia karmica è stato veramente molto breve in questo caso per oggi voglio parlare delle ferite dell'anima che appunto è un tema magari un po diverso rispetto a quello che tratto di solito che è più strettamente connesso all'astrologia ma a livello di karma è molto vicino questa teoria sostiene che noi arriviamo in questa vita con le ferite già già attive dentro di noi in realtà e scegliamo la nostra famiglia di origine le nostre circostanze soprattutto per quanto riguarda la prima fase della vita l'infanzia la gioventù in base a persone o situazioni che possono come posso dire riattivare quelle ferite per per me non per cattiveria ovviamente non per farci un dispetto ma per me per permetterci di diventarne consapevoli e quindi di conseguenza fare un passaggio attivo per guarirle quindi per intervenire e sanare quelle parti ferite quelle parti che ci provocano dolore e proseguire in un percorso appunto di guarigione di evoluzione a livello di anima quindi forse avrete sentito parlare delle ferite io mi rifaccio alle cinque ferite tra virgolette di base anche se poi ne ho sentite nominare molte di più ma insomma iniziamo a lavorare sulle sulle prime cinque poi si vedrà e parliamo di quelle che ha ben descritto Lisbord Bo nel suo libro appunto dedicato alle cinque ferite dell'anima si tratta della ferita del rifiuto dell'abbandono dell'ingiustizia dell'umiliazione e del tradimento la stessa Lisbord Bo spiega che molti di noi hanno più ferite forse addirittura tutte naturalmente non tutta la stessa intensità alcune sono più forti altre sono un po più lieri e poi soprattutto in varie fasi della vita ne emergono diverse quindi che cosa implica avere queste ferite implica in particolare una sorta di come posso dire di proiezione io ricevo e mi sento ferita da situazioni persone circostanze che attivano la mia ferita magari involontariamente magari inconsapevolmente però continuerò ad attrarre quelle persone quelle situazioni quelle circostanze nella mia vita fino a quando non avrò sanato non avrò risolto perché perché a livello inconscio e la mia anima viene a fare questo lavoro viene a fare questo percorso quindi continua a trovarmi situazioni per dirmi allora quando hai deciso di sistemare questa cosa quando lavori su questo tema quando 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 ok quindi veniamo appunto in questa vita con questo obiettivo fondamentalmente poi è chiaro che il percorso evolutivo di ciascuno di noi ha la sua strada e questo emerge dal tema natale senza ombra di dubbio però grossa parte del nostro percorso è un percorso di guarigione veniamo a guarire delle antiche ferite questo cosa implica implica che dobbiamo conoscere bene noi stessi dobbiamo diventare consapevoli di quelle ferite dobbiamo renderci conto che più soffriamo per una certa situazione o con una certa persona più probabilmente quel problema che ci porta a sofferenza è radicato in 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 lontananza nel tempo nell'antichità magari nel nostro percorso di animi tante volte questo vale anzi vale per tutti naturalmente ma interesserà forse chi ha un rapporto più conflittuale più difficile con i propri genitori o con i propri figli spesso è stato visto studiato riconosciuto che abbiamo veniamo in questa vita con le stesse ferite dei nostri genitori non è un caso naturalmente perché siamo nel rapporto più stretto possibile e veniamo quindi a fare in realtà un percorso di guarigione insieme anche se a volte non si riesce a farlo per una questione di consapevolezza fondamentalmente dobbiamo per guarire consentire a noi stessi di ripetere gli stessi errori anzi quando ci troviamo a dire io ecco questa situazione non la voglio più vivere non voglio più vivere non voglio più trovarmi in una situazione del genere è quasi garantito che ci ricapiterà non perché l'universo sia maligno cattivo ma perché quella stessa reazione che noi abbiamo avuto quello stesso rifiuto di quella situazione implica che non abbiamo ancora fatto il passaggio dell'accettazione che è un passo fondamentale nella guarigione delle ferite come si formano queste cinque ferite si formano quando si formano in realtà come dicevo in in un qualche momento delle nostre vite precedenti lì è utile può essere molto utile per capire che cosa è accaduto praticare l'ipnosi regressiva non è fondamentale nel senso che una volta che io sono consapevole di avere una certa ferita in realtà sì andare a vedere che cosa l'ha provocata può bloccare molte cose ma ci si può lavorare anche in un altro modo insomma senza andare a scavare così in profondità soprattutto se la persona non si sente pronta però nell'infanzia queste ferite come dicevo si riattivano si riattivano grazie alle persone alle circostanze che incontriamo e si riattivano seguendo delle tappe molto ben determinate il bambino nasce e nei primi anni prova la gioia di essere se stesso poi però si accorge che l'ambiente non non risponde in maniera positiva a questo quindi sarà un bambino che si sentirà dire stai fermo stai zitto stai calmo non fare capricci così via e vivrà in quel momento il dolore di non poter più essere se stesso questo cosa comporta comporta un moto di ribellione verso questa imposizione dall'esterno appunto che gli impedisce di essere se stesso ma poi alla fine chi più chi meno ci si rassegna la rassegnazione è quella che in realtà consolida la ferita ed è e porta per ogni ferita alla creazione di una maschera che la persona indossa inizia a indossare da bambino indosserà fino a quando non avrà risolto quella ferita non sempre nel corso della vita ma ogni volta che la ferita viene attivata da una circostanza lo spessore di questa maschera questa maschera appunto di difesa è proporzionale alla profondità della ferita che viene innescata le ferite è importante tenere presente che non sono permanenti anzi siamo qui proprio per guarirle veniamo in questa vita per vivere la guarigione per affrontare per portare a termine la guarigione di queste ferite naturalmente questa guarigione si sviluppa attraverso alcune tappe prima di tutto bisogna prendere coscienza della ferita quindi rendersi conto e questo sembra banale ma non lo è affatto è io per prima avevo una enorme ferita dell'abbandono quindi ecco quello che vi racconto è frutto di lavoro veramente personale e profondo e ci ho messo anni prima di rendermi conto intanto vabbè chiaramente all'inizio non sapevo neanche che esistessero le ferite dell'anima e quindi non mi ponevi neanche il problema ma anche quando le ho scoperte le ho conosciute e ho iniziato a studiarle non le vedevo ok quindi è normale anche questo c'è qualche cosa dentro di te magari che ti attira a approfondire questo studio questa conoscenza e dai retta quella vocina e non temere il fatto di poter entrare in una prima fase in una fase di rifiuto della ferita quindi dire no no questa cosa non mi riguarda non ce l'ho va bene fa parte del percorso rimani aperta però al poter cambiare idea mettiamola così quindi prima di tutto diventare consapevoli della propria ferita o delle proprie ferite come dicevo possono essere più di una anzi di solito sono più di una almeno due a volte tutte la seconda fase è quella della resistenza ecco come dicevo no no questa questa non è la mia ferita io questo problema non ce l'ho e anche poi della negazione e anche del dare la colpa agli altri quindi sì no non sono io che ho la ferita dell'abbandono sono gli altri che mi abbandonano per esempio no e fa sorridere però ripeto è una cosa in cui sono passata e quindi conosco la dinamica so che funziona così la terza tappa è finalmente quella dell'accettazione ok ho la ferita dell'abbandono e della compassione questo è importante perché accetto di avere un certo tipo di ferita e non sono più arrabbiata non non mi colpevolizzo per avere quella ferita ma provo compassione per me stessa perché se ho oggi quella ferita significa che ho sofferto tanto in passato e forse anche nel presente e quindi vengo a fare questo lavoro ma lo faccio con delicatezza nei miei confronti perché so di essere un'anima che ha avuto un percorso doloroso quindi prima di tutto attenzione compassione infine la parte finale del percorso che arriva poi a culminare nella guarigione è il ritorno a te stessa l'amore l'amore verso te stessa il concederti di essere così come sei in un certo senso il concederti di essere ferita perché altrimenti si ritorna nella negazione quindi ogni ferita poi ha il suo percorso specifico lo vedremo e io sono qui apposta per accompagnarti in un percorso di guarigione che può essere un percorso personalizzato oppure può essere un percorso condiviso ho messo a punto con i miei anni di esperienza e con lo studio di astrologa carmica di ipnotista insomma non so qui elencare tutti i corsi percorsi che ho fatto perché farei notte però grazie a quello che è stato il mio vissuto ho studiato approfondito ho messo a punto un percorso che si articola in moduli si parte dal primo modulo con che è dedicato alla libertà emotiva e per il momento perché poi naturalmente è tutto in corso d'opera in divenire andiamo ad affrontare nei moduli successivi le cinque ferite nell'ordine in cui le ho elencate prima quindi si parte dalla ferita del rifiuto poi si passerà a quella dell'abbandono dell'umiliazione dell'ingiustizia e del tradimento e ogni modulo dura 28 giorni tranne quello sulla libertà emotiva il primo che ne dura 21 ed è completamente registrato quindi tu potrai se lo desideri avere accesso a un'app dedicata con un workbook previsto che potrai scaricare in pdf anzi che dovrai se vorrai scaricare in pdf per lavorarci come se fosse il tuo diario di bordo e ogni giorno dovrai vedere che cosa ti indica l'esercizio del giorno e ascoltare la visualizzazione o comunque l'audio che sarà dedicato al lavoro di quella giornata è molto molto semplice in realtà si tratta di esercizi molto brevi che durano appunto pochi minuti è importantissimo però anche che tu condivida con il gruppo i tuoi progressi le tue sensazioni le tue eventuali difficoltà che possono ben accadere infatti proprio per questo per sostenerti per supportarti nel tuo percorso di crescita di guarigione ho creato un gruppo su facebook privatissimo naturalmente dove hanno accesso solo gli iscritti al percorso quindi chi sta facendo un lavoro attivo su se stesso e è il punto il posto protetto in cui potrai condividere quelli che su quelle che sono le tappe del tuo percorso di guarigione la condivisione è veramente fondamentale perché ti permette di rimanere sul pezzo quindi di non perderti nel corso del del viaggio e di superare anche alcuni scogli legati appunto alla condivisione magari alla vergogna magari alla paura del giudizio degli altri perché appunto ti troverai a condividere le tue situazioni le tue esperienze le tue riflessioni in un ambiente protetto con persone che stanno facendo tuo stesso percorso e che quindi saranno ben felici di supportarti così come naturalmente chiedo a te di fare di renderti disponibile insomma a supportare gli altri io naturalmente sono sempre presente sono sempre raggiungibile sui miei canali in privato per qualsiasi chiarimento per qualsiasi dubbio o anche se magari tu avessi bisogno nel corso della del percorso di dei chiarimenti di aiuti di magari ti bloccassi su qualcosa oppure se decidessi che vorresti affiancare al percorso diciamo prestabilito anche delle consulenze private con me in cui chiaramente non essendo come dire pre pronte e quindi necessariamente generiche potremo andare in maniera molto più specifica su quelle che sono le tue tematiche però vedrai tu se quando sarai pronta a fare questo passo quindi riassumendo come posso aiutarti a risolvere le tue ferite esattamente così clicca sul link che trovi nei commenti qui sotto e ti aspetto dall'altra parte